A delle domande bisogna dare delle risposte, l'unico modo che conosciamo per dare delle risposte è quello condiviso. Secondo noi la sostenibilità sta lì in mezzo, nell'intersezione di quelle tre grandi aree, da una parte al tavolo della discussione sta la pubblica amministrazione, ma allo stesso tempo il mercato, ma allo stesso tempo sta l'ambiente nel momento in cui mettiamo delle soglie minime che i nostri edifici, che i nostri territori devono rispettare.